Questa mattina ho avuto un incontro con il segretario della CGL Casa e un gruppo dell'associazione che aveva fatto una richiesta per un bando di insegnazione di alloggi popolari nel febbraio-marzo 2016. Ad oggi ancora è evasa questa loro richiesta, anche se è stato pubblicato questo bando. A norma di legge, la legge regionale 18 del 1992 recita che il Comune dovrebbe nominare una commissione comunale per istruire le pratiche entro 60 giorni dalla scadenza del termine. Ora a questo punto mi chiedo e mi domando, l'amministrazione comunale che fa tanti proclami e cerca di essere quella più vicina ai cittadini. Come mai una questione così importante di rimente fa orecchie da mercante? Mi è stato detto che sono stati interpellati sia il sindaco che il vice sindaco, ma ad oggi ancora niente. Allora la mia non è una provocazione o una materia di campagna elettorale. La mia è soltanto o la mera convinzione di essere nel giusto, di essere nei confronti dei cittadini, colui il quale porta avanti le istanze. E allora da consigliere comunale di opposizione chiedo alla maggioranza di istituzione di questa commissione consigliare che dovrà garantire anche a queste persone che non hanno un tetto, pagano un affitto con un irrisorio ovviamente reddito e quindi non riescono a mandare avanti la propria famiglia, di cercare in tutti i modi possibili e nel più breve tempo possibile di istruire ovviamente questa commissione consigliare. Per quanto concerne invece la campagna elettorale posso preannunciare che ad oggi tutti qua sappiamo che dovrebbe svolgersi il 26 marzo, ma stamattina è la notizia di stamattina che i due presidenti di commissione nominati dalla Corte di Appello hanno rinunciato e speriamo che il sindaco questa volta nomini delle persone ovviamente che sappiano fare bene il loro compito. Per quanto concerne la mia lista è evidente un po' a tutti che io già sono consigliere comunale e ovviamente poiché sono il candidato sindaco sarò riconfermato. Gli altri tre del gruppo che si sono sganciati nel mese di agosto non fanno parte più del mio gruppo. Diciamo che sono all'interno della mia lista, però diciamo che già da adesso che non faranno parte del mio gruppo. Quindi a voi elettori ovviamente l'ardua sentenza, ma vi posso assicurare che il mio lavoro da consigliere di opposizione non si fermerà, sono stato fino adesso proteso per questo ricorso elettorale che mi ha visto ovviamente protagonista nei confronti dell'amministrazione comunale. E' andata come è andata, le due sezioni mi sono state concesse, non potevano fare a meno, anche se le varie richieste erano quelle dell'annullamento oppure il rigettamento dell'appello poiché c'erano anche le 14 schede che non so se tutti ricordano furono consegnate alla procura. E quindi quello che vi posso assicurare è che il mio lavoro di consigliere comunale andrà avanti sempre con l'onestà, la trasparenza e la legalità che mi contraddistingue da sempre e è il vessillo del quale mi sono vestito per cercare di irrompere sulla scena politica sempre con il piglio dell'onestà.